Cari amici eccoci, buonasera a tutti. Stasera abbiamo una notizia buona, anzi, lo seremo di dire splendida. Abbiamo oggi avuto un colloquio di particolare importanza, di relevanza, siamo onorati, fortemente onorati. Abbiamo avuto un lungo, sereno, di alto livello colloquio con il professor Bacco e con il magistrato dottor Giorgianni che insieme al professor Tarro hanno costituito una associazione di professionisti e liberi pensatori, nello stesso modo in cui facciamo noi da queste pagine, da questo video, a tutela dei cittadini italiani. Quindi li ringraziamo di averci dato l'onore di essere domani insieme a noi nella prossima diretta di domani sera. Quindi domani sera, sempre se riusciamo a superare i nostri piccoli problemi tecnici perché non siamo dei professionisti, lo sapete, ma se ci riusciamo, ma ci riusciremo, saremo in diretta su questa pagina insieme al professor Bacco e al magistrato dottor Giorgianni come professionisti, scienziati e liberi pensatori che in questo momento stanno lavorando, stiamo lavorando gratuitamente per i cittadini italiani per ristabilire i diritti costituzionali, per ristabilire lo Stato di diritto. Grazie, grazie per averci dato questo onore. Significa che il popolo italiano, i cittadini italiani insieme a dei grandi professionisti stanno tentando di riscuotersi, stanno tentando di ristabilire il diritto che fino adesso è stato il vi ripeso, ricordiamoci, nei prossimi venti giorni tardi ci derà sui vaccini, nei prossimi giorni anche insieme al professor Bacco e al dottor Giorgianni stiamo finendo il ricorso contro le mascherine nelle scuole, ricordatevi che la procura di Trento ha aperto il fascicolo contro il presidente e il presidente sulle guerrelle che abbiamo presentato noi, domani avrò un colloquio con la cancelleria della procura proprio per vedere come andare avanti su questo fascicolo. Ecco, siamo impegnati su tutti i fronti e ne siamo orgogliosi perché dietro di noi, dietro il nostro viso, dietro il nostro lavoro ci sono milioni di cittadini italiani che ci stanno supportando. Ebbene, in questo contesto, ancora con la toga, voglio parlarvi di giustizia, di giustizia internazionale. Non credete alle baggianate che ci stanno propinando i giornali, i media. sentenza della corte dell'AIA per i due Marò, ricordate la vicenda dei Marò, quanti anni sono passati, quanti anni sono stati segregati questi due Marò, sei anni in India, ve lo ricordate, uno scandalo pazzesco. Ebbene, se leggete i titoli dei telegiornali stasera e dei giornali domani mattina, troverete dei titoli baggianate. La giustizia non è un titolo. La giustizia è una cosa seria. Non si può sovvertire quello che ha deciso la giustizia. La giustizia, in questo caso, è la corte di giustizia dell'AIA, il massimo organo internazionale penale, il massimo organo mondiale. Che cosa ha deciso? Se voi leggete i titoli, guardate, vi faccio leggere un titolo, c'è il nome di un ministro, ma noi non facciamo politica, per cui il nome del ministro non teniamo presente, non lo diciamo. Chi è il ministro? Diciamo il ministro. Ecco, il ministro degli esteri italiani, ecco cosa dice? La soddisfazione del ministro degli esteri italiano. La soddisfazione significa che è stata emessa una sentenza e dovrebbe significare che l'Italia ha vinto. I titoli italiani di molti mass media stanno sovvertendo quello che ha deciso la corte dell'AIA. Purtroppo, perché non abbiamo vinto un emerito cappero. Al contrario, forse. Allora, cosa ha deciso la corte dell'AIA? Guardate, leggiamolo insieme, perché ecco qua. Sul caso Marot, l'arbitrato internazionale, ha accorto la tesi d'Italia che i due militari devono essere processati in patria. Ma secondo voi il fatto che la corte internazionale preveda che debbano essere processati è una vittoria? No, devono essere processati. Quando saranno assolti dalla procura di Roma saremo tutti felicissimi di una soluzione. Questo è un rinvio a giudizio. Allora i giornali, i ministri, vittori, vittori di che? Anzi, guardatemi bene, secondo voi è una vittoria o una pesante sconfitta? Perché la corte dell'AIA, guardate a che cosa ci ha condannato, perché mi dovete dire il vostro di vostro parere? Ecco qua. L'arbitrato, la corte dell'AIA, ha stabilito che l'Italia ha violato la libertà di navigazione sancita dalla Convenzione dell'ONU e dovrà compensare l'India per la perdita di vite umane, danni fisici e danni materiali. Cioè la corte dell'AIA ci ha condannato, condannato al risarcimento di tutti i danni. Quindi se ci ha condannato, ha detto l'Italia ha ucciso dei pescatori. Leggiamo insieme, scusatemi perché potrei avere sbagliato. Ecco qui. L'Italia ha violato la libertà di navigazione e dovrà compensare l'India per la perdita di vite umane. Ma abbiamo vinto? Scusate, questa è una sentenza che ci ha fatto vincere qualche cosa? Dopodiché dice dovranno essere processati, ma processati in Italia. È un ministro della Repubblica Italiana? Può fare i titoli dei giornali dicendo abbiamo vinto? Ecco, rendetevi conto. Questo, vedete, è per questo motivo che stasera non ho tolto la toga e la sto ancora indossando, perché sto leggendo una sentenza del massimo organo penale internazionale mondiale. È una sentenza, una sentenza non può essere sovvertita con un titolo di giornale. La Corte dell'AIA ci ha condannato a pagare un risarcimento per delle vite umane. Altro che vittoria. Altro che vittoria. Con la giustizia non si scherza. La giustizia non è un titolo di un giornale. La giustizia viene emessa in nome del popolo, in questo caso del popolo internazionale. E non possiamo scherzarci. Dopo queste notizie e dopo l'onore che avremo domani nell'avere con noi il professor Bacco e il dottor Giorgiani, in pochissimi minuti vediamo un po' di accadimenti. I più disparati, ma tutti quanti indirizzati a dimostrarci la tragedia che sta vivendo il nostro paese. Da ieri la legge non si può pagare più in contanti, da 3.000 siamo passati a 2.000. Dobbiamo per forza usare le carte di credito. Facendo ricche chi? Scusate, le banche. E ammazzando l'economia. Guardate cosa dice la Guardia di Finanza. La rivista della Guardia di Finanza in Europa non esiste il tetto del contante. Quindi l'Italia sta dando ancora l'ennesimo vantaggio agli altri paesi europei. Ancora. Da noi è limitato il contante. Secondo voi dove si va a spendere in contanti? In Francia, in Svizzera, in Belgio, in Austria. Grazie, grazie governo di questa ulteriore prova di soppressione dell'economia italiana. Ma, ma, ricordiamoci, per comprendere ancora come l'estero sta vilipendendo l'Italia, un'altra volta, ecco, caso Reggeni, ecco qui ci prende in giro un'altra volta l'Egitto a cui abbiamo dato le nostre navi da guerra, ricordate, ecco, caso Reggeni, gli egiziani prendono ancora tempo. Quindi l'ennesima presa per i fondelli dello Stato italiano dell'Egitto che non vuole processare, ovviamente, i suoi funzionari di Stato che probabilmente hanno ucciso il giovane Reggeni. In questa pagina che vediamo, ricordiamoci, ecco, un'altra presa in giro, bonus vacanze al via, guardate, guardate il titolo, sembra una cosa, sono 146 mila le famiglie che lo hanno scaricato, cioè su 20 milioni di famiglie italiane, 20 milioni, 146 mila, grande risultato. Vedremo quanta gente riuscirà, lo vedremo, a settembre faremo i conti, quanta gente riuscirà a prendere questi famosi 500 euro che non riuscirà a prendere nessuno. È un'ennesima farsa, perché per riuscire ad entrare nella possibilità di scaricare delle tasse l'80%, 50% di questa somma, bisogna scaricare un'app, entrare dentro un sito, scaricare il proprio codice, una cosa di una difficoltà pazzesca, voi immaginate in tutti i paesini d'Italia, al di là forse di un gruppo di milanesi, un gruppo di torinesi, un gruppo di romani che forse hanno più dimestichezza, pensate all'80% delle famiglie che devono caricarsi 4 app per riuscire ad avere uno sconto sulle tasse dell'anno prossimo delle 500 euro delle vacanze. Questo è il titolo, dietro il titolo non c'è nulla, infatti cosa continuano a dire i titoli dei giornali? Sconto con l'app, così il governo spera di digitalizzare gli italiani. Dietro ogni finto sconto c'è un'app, dovete segnare i vostri dati, dovete dirci dove siete con la geolocalizzazione. Questo è quello che purtroppo sta accadendo. Ma non solo questo, non solo questo, vedete? Vedete? Allora, guardate le differenze e poi concludo con questo messaggio. Purtroppo anche l'ideologia, la religione, la Chiesa si è piegata, si è inginocchiata a questo folle stato di cose. Allora, guardate la differenza, guardate, vediamo, pellegrinaggi online, l'URD, pellegrinaggi online, pellegrinaggi online. Se voi andate a vedere le trasmissioni di ieri sera, di domenica sera, c'erano centinaia di calciatori che si abbracciavano e si baciavano in bocca in tutti gli stati d'Italia e quelli non hanno bisogno della mascherita. Quelli si possono abbracciare, baciare, ammucchiarsi e i fedeli non possono andare all'URD a pregare la Madonna. Ma rendetevi conto perché i calciatori sono un grandissimo business di una nazione, i pellegrini, chi se ne frega, che credono nella Madonna. E questa è la grande differenza. Vedete, vedete la differenza. Se la legge fosse uguale per tutti, se i calciatori si possono abbracciare e baciare in bocca quando fanno un gol, io, credente, posso andare a pregare la Madonna e magari sono anche distante da un metro da un altro pellegrinio. No, vietato il pellegrinaggio. Vedete queste forme di persecuzione popolare, razziare, politico, sociale, culturale, religiosa, noi non le accettiamo. La Costituzione prevede l'uguaglianza di tutti i cittadini. Quindi, se un calciatore si abbraccia e si bacia, io posso baciare il mio vicino di religione. Questa è la libertà costituzionale per cui stiamo combattendo in nome dei cittadini italiani. Ci vediamo domani sera con questa grandissima onore di questi grandissimi ospiti. Domani sera, ore 19, diffondiamo al massimo questo messaggio. Dovremmo essere milioni. A domani. Ciao.